Una mazzata per le famiglie e un attacco frontale agli stabilimenti balneari di Pescara Sud, per di più proprio quando si cerca, a fatica, di riprendersi dai danni della pandemia. È, in sostanza, la critica dura che FIBA Confesercenti indirizza alla scelta di far pagare il parcheggio sul lungomare sud tutti i giorni, non solo nel fine settimana. A Pescara Nord, invece, l'esborso quotidiano sarebbe rinviato al 2022. Mario Troisi, coordinatore regionale di FIBA Confesercenti, si dice sbalurdito, visto che fino all'anno scorso il parcheggio della Riviera Sud era a pagamento solo nei weekend e nella fine settimana di ferragosto. Troisi lamenta anche il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria. In sostanza, si chiede al Comune di uniformare le tariffe sull'intero litorale e anche di modulare i tempi di sosta e il relativo pagamento, perché non tutti vanno in spiaggia per l'intera giornata. C'è anche chi sceglie uno stabilimento balneare semplicemente per pranzare. Il problema che abbiamo posto è stata la mancata comunicazione, meglio da parte del Comune, perché hanno deciso autonomamente di aumentare. A differenza dell'anno scorso, in cui il parcheggio era solamente nel fine settimana, adesso da quest'oggi per tutta la stagione costerà parcheggiare nelle aree della zona sud 3 euro, quindi significa andare a colpire il portafoglio delle famiglie pescaresi e non solo, comunque degli avventori della spiaggia in maniera importante, perché alla fine 3 euro al giorno, se uno fa una settimana e deve parcheggiare lì, immagino una persona che ha ridotte capacità motorie, e quindi comunque non può fare chissà quanti centinaia di metri per trovare un parcheggio non a pagamento, inizia a essere, penso che inizia a essere un qualcosa di importante sotto l'aspetto dell'economia familiare. Si vocifera che ci sia questa idea di mettere a pagamento l'intera riviera, però aspettiamo di avere notizie in merito da parte dell'amministrazione. Prima o poi bisognerà far sì che tutte le amministrazioni si fermino un attimino e iniziano a pensare di poter cambiare forse il sistema di mobilità urbana, cercando di creare i famosi parcheggi di scambio, incentivando il trasporto pubblico, non so se passerà il famoso filobus sulla strada parco del collega Pescara Montesilvano, a finire che persone saranno invogliate a lasciare la macchia nel parcheggio di scambio, salire sull'autobus e poi andare nel loro stabilimento preferito.